World Economic Forum, evento seguito che catalizza l'attenzione a livello internazionale, però quest'anno ci sono state parecchie defezioni, lo dobbiamo sottolineare, molti capi di stati di governo hanno preferito in realtà restare nel proprio paese e seguire l'evoluzione della situazione economica, finanziaria, politica dall'interno anche perché la situazione è sempre più complessa. E a questo punto ti chiedo Maurizio innanzitutto se dal World Economic Forum avremo delle indicazioni preziose per i mercati o se vista la situazione si tenderà un po' a tergiversare. La battuta ricorrente su Davos è il luogo dove i miliardari raccontano ai milionari come vive la classe media e è una battuta molto significativa che sta a testimoniare a mio avviso che Davos è un po' scaduta di moda. Diciamo che il mondo si sta deglobalizzando per necessità, sta ritornando su spaccature che apparentemente ci eravamo dimenticati che adesso siamo di nuovo costretti a ricordare. Se questo sia un bene o un male lo dirà la storia ma certamente è così. Davos è il simbolo di una globalizzazione estrema ed è obiettivamente un po' passata ed è come giustamente osservi tu molti capi di Stato hanno percepito il fatto che sia passata e disertano Davos. È chiaro che da Davos arriveranno delle previsioni e tenuto conto che nel 2022, parlandoci chiaro, non ci ha azzeccato nessuno, non credo che le previsioni di Davos verranno tenute in così seria considerazione, soprattutto in termini di impatto sul mercato, se non per occasionali spunti di volatilità che rientrerebbero comunque in modo molto presto sul mercato, diciamo che non avrebbero un grande valore dal punto di vista dell'impatto, non più come una volta, proprio perché le pagine di Davos a mio avviso è in piena decadenza. Tra l'altro poi fanno di tutto veramente per avere un'immagine decadente, questi arrivi con gli elicotteri, con i jet privati. La notizia di un settimanale svizzero un po' intrigante che dice che tutte le agenzie che affittano tempi di entremese, di accompagnatrici, hanno il sold out, il tutto esaurito, perché c'è Davos. Sono cose che obiettivamente non depongono a favore dell'immagine di questo evento, che dovrebbe essere più che mai un evento serio, in doppio petto, inattaccabile e questo è chiaro che non depone a favore. Questo è un evento che appartiene al passato, non a partire qua. Ecco, infatti l'hai detto Maurizio, un'immagine decadente, quella del World Economic Forum, come decadente il concetto di globalizzazione, lo hai accennato prima, globalizzazione che sta incassando colpi un po' da tutte le parti, prima la pandemia, poi le tensioni internazionali, geopolitiche, la guerra naturalmente in Ucraina, il climate change. Ecco, ma se l'era della globalizzazione è finita o sta finendo, che nuova era ci attende secondo te? Il mondo tenderà a spaccarsi in tre parti. Diciamo che dobbiamo tenere conto che c'è una terza componente, che è l'India e il Brasile, una buona parte del Sud America, che non si allineerà o cercherà di non allinearsi né alla parte orientale del mondo né alla parte occidentale e cercherà di tenere una bandiera apparentemente neutrale. È chiaro che la spaccatura esiste, c'è. Io non vedo bene la Russia di qui a tre anni, anche se per ora le conseguenze delle sanzioni nei confronti della Russia forse le stiamo pagando più noi che non loro, ma di qui a tre anni la credibilità della Russia sarà sotto zero nei confronti di tutta la comunità internazionale. Questo significa che la Russia comunque andrà incontro a grandi difficoltà. Secondo me tutto questo si instaurerà all'interno di una possibile crisi globale. Teniamo presente che un cambiamento di questo tipo andrà a fare un impatto fortissimo. Tieni presente per esempio nella logica di produzione dei semiconduttori quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno di nuovo riportando all'interno degli Stati Uniti della produzione dei semiconduttori per raggiungere l'indipendenza. Tieni presente la crisi di Taiwan che prima o poi andrà a scoppiare e di cui non possiamo sapere le conseguenze. Quindi di qui a tre anni ci sarà una crisi forte. Da questa crisi forte uscirà un mondo diverso e certamente un mondo che apparentemente non riusciamo a non vedere come un mondo spaccato, dove c'è una componente orientale, una componente occidentale e una componente neutrale che però avrà un ruolo molto importante. Quando parliamo di India e Brasile sono Stati che possono avere un ruolo molto importante nella produzione internazionale di bene. Maurizio, in questo nuovo mondo deglobalizzato, frammentato come lo hai definito, che ruolo può avere l'Italia? Perché l'Italia da un lato naturalmente è uno dei paesi del G8, è una delle maggiori economie a livello mondiale, però dall'altra è anche un paese, lo ha sottolineato il Financial Times, che è versa in una condizione di difficoltà per quanto riguarda il debito pubblico. Addirittura l'anello debole dell'Eurozone è stato definito, senza contare poi i problemi che abbiamo anche a livello occupazionale e demografico. Quindi l'Italia potrà svolgere nel nuovo assetto mondiale ancora un ruolo da protagonista? L'Italia rimane il secondo paese manufatturiero d'Europa. E' chiaro che tutto dipenderà dalla capacità politica di riuscire effettivamente a impostare situazioni e condizioni di vantaggio per il secondo paese manufatturiero d'Europa, da un contesto internazionale dove la manifattura viene riaccentrata e non è più decentrata. E' chiaro che dovremmo avere una politica fiscale e sociale molto diversa da quella che stiamo avendo in questo momento. Le decisioni stanno in mano soprattutto alla classe politica che fino a oggi, se escludiamo, io continuo ad apprezzare molto l'epoca Draghi, quindi il momento in cui Draghi è stato Presidente del Consiglio, ma se escludiamo questa epoca Draghi, l'Italia non ha mai brillato granché. Diamo una speranza al fatto che il nuovo governo sia consapevole di questo problema che è un problema anzitutto politico, di intervento politico e sappia trarre vantaggio da queste situazioni. La Presidente Meloni in più di un'occasione ha parlato di piani cooperativi che hanno un senso, hanno un significato e ritornano ad avere per l'Italia una prospettiva di medio e lungo termine che l'Italia non si è mai saputa dare, facendo un errore strategico fondamentale. Non so se questo governo sarà capace di farlo. La Presidente in alcune occasioni ha parlato in un modo molto positivo di questo e il fatto che la Presidente è consapevole di questo problema, a mio avviso è già un sintomo buono. Non passo avanti, chiaro. Ecco, per concludere appunto il discorso su Davos, sul World Economic Forum, ma ti propongo Maurizio un intervento di un nostro telespettatore, Roberto, che tra l'altro ci propone anche un paragone piuttosto azzardato che vale la pena commentare. Roberto dice i grandi della terra si riuniscono sì, ma le economie vanno sempre peggio. Pensiamo un po' se non si riunissero che cosa accadrebbe. Mi sembrano le assemblee degli stati generali pre-rivoluzione francese inutili e sterili. Ecco, come lo commenti? Un po' azzardato il paragone, però sta a indicare una valutazione sicuramente centrata del nostro ascoltatore dal punto di vista del concetto di rivoluzione. Lui lo vede come un momento prima della rivoluzione. Effettivamente dobbiamo aspettarci che a fronte, quando prima parlavo di crisi, di crisi di più a tre anni, certamente in alcune di queste crisi ci sono delle rivoluzioni, le stiamo vedendo. In Iran, malgrado la fortissima repressione, io sono assolutamente fiducioso che prima o poi il regime cadrà di qui a tre anni. Farà parte di questo scenario di crisi e sarà una rivoluzione molto forte. È una rivoluzione in un paese ad alto livello strategico nei confronti dei rapporti con il resto del mondo, sia con la parte occidentale che con la parte orientale. Quindi è un'osservazione puntuale, interessante, che preannuncia un'epoca che potrebbe in alcune zone del mondo essere effettivamente rivoluzionaria e essere il sottostante di una crisi globale di riassestamento sia dei valori che delle relazioni fra Occidente e Oriente del mondo. Chiarissimo. Il paragone con la rivoluzione francese è appunto azzardato, ma interessante. Speriamo che il passaggio da una vecchia, da un ancien regime ad una nuova epoca non sia così sanguinolento perché lì saltavano le teste, Maurizio. Quindi speriamo in un passaggio un pochettino più morbido. Io ti ringrazio naturalmente per il tuo intervento, per la tua analisi. Ti aspetto ancora sulle fonti per parlare, continuare a parlare non solo di globalizzazione, ma di tutto lo scenario economico e politico. Avremo molto di cui discutere. Grazie ancora al direttore di Traders Magazine. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori delle fonti. Grazie. Grazie a te, grazie a te.